Noi ce ne dobbiamo sbattere il cazzo anche del tuo risconto del primo di maggio solamente perché ci vogliono consumatori e non persone dotate di una coscienza Ora è sempre resistenza, ora è sempre resistenza, ora è sempre resistenza Bisogna guardare il primo maggio all'interno della costitualità, bisogna nonostante gli accordi di Cicchieri e Cislequil che stanno mercificando la vita di tutti i lavoratori, soprattutto dei più giovani ma abbiamo visto, a Arma Viva non hanno accettato la condizione generativa ma all'Italia una lotta dei lavoratori, in primis della CUP, Trasporti e STP che non hanno accettato le peggiori condizioni che Cicchieri e Cislequil e il governo avevano preparato Ma questo vuol dire che si può e si deve organizzare all'interno della costitualità tutti i lavoratori di portare il primo maggio, non come la festa, ma come una riapportazione del potere dei lavoratori La lotta di classe è un po' più medesale, è un emigliato per l'ascostamento che purtroppo gli agricoli generali, Cicchieri e Cislequil, continuano a far taggiorare Ora partiamo dalle lotte, dall'Italia, dalle lotte delle fabbriche che comunque resistono e quindi bisogna creare un movimento di opposizione che realmente ne havesse questo stato di voce L'alta di classe è la prima questione Avanti, ciopero, ricomaggio, dei lavoratori, della riapportazione, della capacità di lotta Bravo Antonio!